Ospitalità, cortesia e buon gusto. Con questi ingredienti la fucina di Vulcano renderà il giorno delle vostre nozze ancora più romantico e indimenticabile. Situata in uno sfondo naturalistico privilegiato, la fucina di Vulcano dispone di vari spazi allestibili per accogliere ricevimenti da sogno. La sala principale è perfetta per un ricevimento con molti invitati, infatti può accogliere fino a 250 commensali. Mentre la saletta adiacente si addice ai ricevimenti più intimi, con un massimo di 30 invitati. La struttura dispone inoltre di una straordinaria terrazza panoramica e di un incantevole giardino, da cui potrete godere del mite clima brontese, mentre la vista potrà perdersi sul verde del Parco delle Nebrodi e sulla maestosità dell'Etna. Il personale qualificato della fucina di Vulcano sarà al vostro servizio per rendere ancor più speciale il giorno delle vostre nozze e addobberà gli spazi da voi scelti per il ricevimento, curando minuziosamente ogni dettaglio, perché il giorno più importante della vostra vita possa essere impeccabile e speciale. Inoltre, qualora lo vogliate, potrete pronunciare il fattidico sì nell'atmosfera romantica e suggestiva del giardino, organizzando in loco la cerimonia di nozze. La gastronomia della fucina di Vulcano segue la ciclicità delle stagioni e si basa sull'utilizzo esclusivo dei migliori prodotti naturali, che vengono sapientemente rielaborati dagli chef per esaltare i sapori della cucina tradizionale e mediterranea. Il vostro menù nuziale verrà creato seguendo i vostri consigli e le vostre esigenze e sarà affiancato da prestigiosi vini scelti insieme ai sommelier della struttura. Presso la fucina di Vulcano, ogni vostro desiderio diverrà realtà e i vostri ospiti ricorderanno per sempre il vostro come uno dei matrimoni più belli.